Eeeh what's up a tutti ci sono e benvenuti alle giocherine in questa nuovissima challenge Ebbene visto che un po' di tempo fa ho fatto la prova a non piangere challenge Qualcuno di voi in uno dei commenti a non mi ricordo quale video ragazzi Mi ha consigliato di fare la try not to get scared challenge Cioè sarebbe a dire prova a non spaventarti challenge Siccome voi ben sapete che io sono una che piange facilmente E una che si caga addosso facilmente Siete così buoni e pii da consigliarmi challenge del genere Quindi grazie chiunque tu sia non mi ricordo manco il tuo nickname ti voglio bene E quest'oggi quindi per portarvi qualcosina di diverso ragazzi Proverò a fare questa challenge Io ho trovato questo video totalmente a caso Dice impossible challenge hardest version ever Quindi sarebbe a dire la versione più spaventosa più difficile di questo mondo Per cui vediamo realmente se quest'oggi giocherina si cagherà addosso Come fa di solito quindi il video dura poco più di 5 minuti Non perdiamo più tempo e andiamo a vedere ragazzi questo video Vediamo se riesco per una volta almeno a non spaventarmi ragazzi 5 minuti giocherina devi resistere 5 minuti Sto parlando a me stessa per autoconvincermi capite È una cosa tipo motivazionale Il tipo coraggio forza yeah Andiamo Cosa ci sarà mai a questi video così spaventosi Sai Neverland che cosa Neverland Non so cosa stanno dicendo L'avete vista l'ombra Ma si 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 vede il replay attenzione L'abbiamo vista tutti Allora c'è raga no vi giuro no Non me no 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 non me lo aspettavo per niente Va bene mi stanno a sudare le mani la concia di tu madre Cioè non so durata manco un minuto ragazzi eh Giocherina provano a non spaventarti sto paio di palle Va bene cioè come faccio a resistere 5 minuti Non lo so Andiamo avanti Va bene Promette bene De notte e mezz'anno tormenta dei nevi Cos'è Vabbè Ok Recuperiamo l'autocontrollo giocherina Su due video già hai gridato due volte come un imbecille D'accordo Va bene Andiamo avanti Qua è una bella gio Un serpente Oddio Oddio La concia di tu madre Serpente di merda Cioè ragazzi è possibile che non riesco Non riesco ad avere un minimo di autocontrollo Cioè sto video invece di fammi cagare addosso Mi sta a fare di nervi verso me stessa Cioè la più di sto video mi odierò Più di tutte le altre persone del mondo Va bene Ok un'auto che va avanti placidamente nella natura È meraviglioso Cosa potrebbe mai succedere? È un video di jumpscare parca vacca Vabbè comunque c'è con gli jumpscare ragazzi è normale che uno si spaventa Scusa tanto eh Per quanto possa essere fifona Cioè pure uno magari che c'è un po' più di autocontrollo dei me Che non è che ci vuole molto effettivamente Magari un attimo uno spaventino se lo prende no? Vabbè Ah è una bibita ma vaffan Beh dai c'è qua c'è sta da aspettarselo E su via Qua c'è sta da aspettarselo Qua me l'aspetto tantissimissimo Infatti vedi Infatti vedi non mi ha fatto paura per niente Anche perché è arrivata lentina Che c'è? Oddio cos'è? No gente in mezzo alla strada Ma che è? È una moda No cos'è? Sì è uno in mezzo alla strada Ma che è serio? E io sto andando incontro? Che sto scemo? Ma sei imbecille Oh mio Dio Oh mio Dio cos'è? Oh mio Dio cos'è? Ma questo è imbecille Oh mio Dio che sta andando Oddio Oddio cos'è? Oddio Ma vattene che caspita aspetti Oddio che cos'è? Oddio che sta andando incontro È scemo questo è scemo Oddio Ma per chi? Oddio 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 Cos'è? Ma vattene Che aspetti? Oddio 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 ragazzi Oddio Ma cos'è? Oddio 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 Ma perché? Ma incontro No vorrei che me lo spiegasse Oddio 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 Oh, corre! Oddio, corre! Oddio, 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 oddio. Che piangi? E tu sei ancora? Oddio, oddio, oddio. Oddio, ragazzi. No, c'è sto video, mi sta inquietando più di tutto il resto, basta, vi prego. Oddio, già faccio più, oddio, basta. Oddio, corre, oddio. No, eh. No, eh. No, ma sei scemo! No, 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 no! No! Oh, no! Oh, no! Oh, no! E tu deve la cercare, che caspita gridi! No, no, no. E' finito! Ok, cioè, no. Per quanto di sicuro fosse una cosa montata, ragazzi, vi giuro, mi ha fatto stracagà addosso! Cioè, mi ha angosciato in una maniera allucinante, ma ve lo giuro, eh! Per quanto, vi ripeto, possa convincerno il fatto che... Cioè, forse è una cosa montata, inquietantissimo! Oh, mio Dio! Ok. Per fortuna è l'ultimo video, ragazzi, però c'è il jumpscare no, porca vacca miseria. Cioè, ovvio che strillo come una scema, eh! Scusate, come mi succede durante i giochi, no? Vabbè, che di, ragazzi, ho voluto provare a fare qualcosa di diverso, ogni tanto mi piace portarvi pure queste challenge così, un pochettino random. Spero che il video vi sia piaciuto, se dovesse avervi piaciuto, ragazzi, mi raccomando, lasciate un like, condividete il video se l'avete trovato divertente, e soprattutto, se avete altre cose da consigliarmi, altre challenge, ragazzi, perché vi sto con video challenge, se volete consigliarmi challenge, avete la possibilità di farlo qua sotto in commento, mi raccomando! Perché, niente, con l'angoscia addosso, quell'ultimo video mi tormenterà per il resto della giornata, tipo, e ne risentirò specialmente questa sera, che Rodrigo sarà al lavoro e quindi sarò da sola a casa. Non ce l'ho bisogno a far pensare, mi viene l'angoscia! Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione! E un bdoscio a tutti, ragazzi! Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link nei miei social, i link per fare delle donazioni e il sito digital24.it, dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice. Grazie!